allora oggi parliamo le nostre solite conversazioni di parasite di bong john o se lo pronuncio bene 2019 e inizio io così magari cerco di dare un quadro così molto astratto generale poi semmai andiamo poi nel dettaglio quindi voglio dire giusto qualcosina sulla trama dato che sono io in apertura secondo me la trama è una trama molto semplice ma poi come spesso accade per i grandi film e i grandi romanzi di fondo la trama poi un pretesto per parlare d'altro la trama è queste due famiglie che sono molto speculari tra di loro i kim e i park se li pronuncio bene spero di sì coreano insomma ce la caviamo così e secondo me il nucleo del film il cuore del film è nel concetto di strato di stratificazione perché il film ci mostra subito fin da subito che c'è una differenza di livello una differenza di livello sicuramente da un punto di vista urbano per andare alla casa dei park questa famiglia ricca alto borghese quantomeno si sale mentre invece i kim si mostrano fin da subito come abitanti del sottosuolo diciamo così per dirla con dostoieschi di questa città di seul sottosuolo non hanno una vera e propria casa hanno una sorta di seminterrato con spazi molto ridotti stanno tutti quanti stretti in questa casa mentre invece i park hanno questa casa ampia hanno questa casa che dà un sacco di respiro in questi spazi larghi e beh allora attraverso attraverso un personaggio che poi sparisce nel corso del film che è una sorta di deus ex macchina diciamo così mette in contatto il figlio di questa famiglia povera con la signora park perché cerca un sostituto per le ripetizioni della figlia tra l'altro ripetizione di inglese se non sbaglio e beve il film guarda molto all'america esce più volte questo concetto di america nel film questa e questo secondo me entra un po nella nella costruzione mitemica del sogno diciamo così verso l'america e quindi lui riesce andare a lavorare presso questa famiglia nobile aristocratica alto borghese insomma chiamiamola un po come vogliamo e poi a poco a poco si tira dentro tutta quanta la famiglia si tira dentro tutta quanta la famiglia a lavorare e allora ripeto ecco questo concetto di stratificazione stratificazione urbana stratificazione sociale ci mostrano due stratificazioni sociali completamente differenti completamente antitetiche la famiglia dei kim vive un po di espedienti vivo sia cioè si inventa un po il lavoro si inventano dei personaggi si inventano la vita potremmo dire così più volte ricorre nel film il fatto di avere o non avere dei piani per sopravvivere se è meglio avere dei piani o se è meglio non avere dei piani delle strategie per sopravvivere mentre invece i park appartiene appunto a quelle stratificazioni della società comode alte che però vivono il loro posizionamento come un privilegio e diciamo per alcuni aspetti assimilano questi 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 servi un po dentro questa casa e sembra ad un certo punto che ci sia anche una sorta di di uguaglianza che si ricostituisca una sorta di clima di uguaglianza per alcuni aspetti ma è tutta quanta apparenza secondo me tutto quanto un gioco del film addirittura loro simulano questi questi servi chiamiamoli così perché secondo me si innesta anche un po un procedimento che si ritrova nelle commedie plautine cioè quello del servo intelligente quello del servo che fino ad un certo punto manipola o crede di manipolare il signore diciamo così e ad un certo punto quando questi signori abbandonano la casa loro simulano di essere i padroni di quella casa simulano di essere un po i signori loro di quella casa ecco e quindi un altro livello di stratificazione è la casa stessa è una casa costruita più livelli abbiamo appunto il livello abitativo che appunto fatto di questi spazi larghi e poi però in questa casa si discende c'è anche in questa casa un sottosuolo c'è anche in questa casa uno strato basso che ci porta appunto in cunicoli stretti e ci porta nuovamente in alcuni spazi ristretti da questo sottosuolo della casa non si riesce ad avere un contatto con lo spazio della vita se non attraverso l'intermittenza di una luce questi segnali morse costantemente mandano dal basso questi servi e come dei fantasmi no si manifestano attraverso della una fenomenologia della luce potremmo dire così è un'altra un altro livello di stratificazione secondo me la narrazione stessa un po questo qua l'avevamo accennato anche con barbara ieri c'eravamo sentiti e cioè nel senso che in questo film secondo me ci sono molti generi c'è la commedia la commedia nera c'è il dramma c'è la tragedia c'è l'horror anche per alcuni aspetti e quindi è un film che veramente gioca su varie stratificazioni allora la domanda secondo me che possiamo porci un po qual è chi sono i parassiti in questo film i parassiti è questa famiglia che viene dal sottosuolo e questa famiglia che viene dal basso e che a poco a poco si inserisce nella nella casa di questi signori oppure i parassiti in realtà sono questi signori che vivono appunto sulla sulle spalle di questi servi a mio avviso secondo me come come nel grande cinema intelligente di cui ho parlato spesso e di cui abbiamo parlato spesso anche qui non c'è uno spazio del bene in questo film sono tutti quanti coinvolti in una sorta di distopia non non esistono posizioni privilegiate sono tutti quanti un po che mettono in scena un teatro dell'inganno secondo me c'è un c'è una messa in scena del teatro dell'inganno da parte di tutti i partecipanti a questa questa questo film e punto ecco su cui mi preme mi preme riflettere è sicuramente questa questione della differenza ecco dicevo ad un certo punto può sembrare che si costituisca una differenza ma in realtà il film marca in modo molto cattivo marca in modo molto cattivo quella che potremmo definire una sorta di differenza ontologica una differenza essenziale tra questi due gruppi che viene fuori proprio dalla puzza il film ribadisce più e più volte questa puzza questa puzza che appartiene ai servi questa puzza che accomuna tutti quanti i servi questa puzza che nauseabonda ad un certo punto il signor parks ne parla come se fossero degli stracci bolliti di questa puzza è qualcosa di molto cattivo che viene fuori che viene fuori che a un certo punto è come se caricasse questi personaggi verso un'esplosione diciamo così ecco questo discorso questo discorso della differenza questo discorso della stratificazione questo discorso della puzza è la denuncia secondo me diretta che c'è in questo film è una denuncia diretta le stratificazioni le varie differenze sociali non possono essere superate noi restiamo costantemente nel nostro posizionamento è una società del sogno questi servi possono abitare lo spazio dei signori solamente o sognando oppure mettendosi al loro servizio non possono abitare quello spazio in altro modo è uno spazio che resta precluso alla servitura oppure possono abitare nella fogna al di sotto nello spazio del sottosuolo e quindi secondo me questa è un po la denuncia diretta di questo film ma in realtà e qui vado a chiudere c'è una denuncia anche indiretta di questo film perché un film che ci mostra poi sostanzialmente una società ipocrita una società della simulazione una società classista ancora una volta una società dello specchio ma è un falso specchio è una società della derisione è anche una società dell'illusione e secondo me una società della disuguaglianza che marca appunto ancora oggi la presenza di questa disuguaglianza e io qui mi fermerei e vi lascio la parola e poi se mai riprendiamo quindi chi vuole andare non lo so io direi barbara che magari più visto più volte va bene allora vado io sia il film l'ho visto diverse volte come accennavo anche prima tra di noi ancora ancora c'è da scavare in questo film quindi questa casa che si muove no su tre livelli ti fa capire che ci sono più livelli di lettura nel film l'ultima volta che l'ho visto che è stato proprio ieri mi ha colpito la frase qui è tutto metaforico una frase che viene detta mi sembra dal capo famiglia proprio all'inizio del film secondo me questo è un po la chiave di lettura con cui va visto il film è una metafora appunto come diceva marco sulle classi sociali sulla stratificazione sul punto di vista chi sfrutta chi chi vive alle spalle di chi è interessante notare che nonostante si strizzi molto l'occhio no all'america ma anche non solo nel nel nell'utilizzo di determinati come dire vocaboli proprio proprio ad hoc no ogni tanto la mamma dice qualcosa in inglese non per 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 fare aumentare la madre della famiglia parks quindi la madre della famiglia borghese dice qualcosa in inglese per aumentare la sua autorità anche se ci appare un personaggio diciamo veramente poco intelligente molto manipolabile estremamente influenzabile c'è questo strizzare l'occhio di stacenti ma penso anche molto nello stile e mantiene i tempi lenti del del cinema orientale però diciamo il montaggio la fotografia strizza l'occhio anche un po ho letto da qualche parte che il regista detto che ha strizzato un po l'occhio a tarantino e nel finale è molto chiaro no questo 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 suo gusto quindi viene detta che questa viene detta questa frase qui è tutto molto metaforico quindi dobbiamo dobbiamo farci raccontare secondo me questa metafora dal dal regista che è una metafora che però si basa su alcuni concetti reali cioè in corea del 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 sud veramente la differenza delle classi sociali è così marcata e mentre in europa le differenze tra le classi sociali esistono ovviamente però il cattolicesimo ci ammanta del fatto che comunque se uno è ricco non lo deve far pesare non lo deve far notare e dei poveri regno dei cieli questa cosa in corea non c'è questa cosa è molto meno in questo sono in disaccordo con te è molto meno ipocrita forse la situazione cioè chi è ricco non ha alcun problema a far pesare alla classe sociale più bassa di essere ricco non ha nessun problema a ostentare e a come dire mostrare il suo potere che è un potere economico tant'è che noi nel film vediamo che la famiglia ricca più o meno langue a parte il padre che fa questi viaggi di lavoro ma non si capisce neanche bene che lavoro svolga la la madre e il bambino e la figlia allanguono quindi non fanno praticamente niente quindi poi a un certo punto la domanda sorge spontanea chi sono i parassiti perché è vero che la famiglia kim ovvero la famiglia povera entra con l'inganno all'interno di questo nucleo familiare però di fatto lavorano tutti quanti e quindi alla fine c'è questo ribaltamento del punto di vista sì parassiti sono loro che si insinuano in questa casa bellissima con l'inganno fingendosi chi non sono però poi di fatto il lavoro lo svolgono invece quest'altra famiglia ricca diciamo langue in questa in questa situazione è infatti riallacciandomi a quello che dice marco sulla stratificazione penso che sia molto metaforica proprio la casa questo architetto di cui non pronuncerò il nome perché non voglio fare brutte figure però si parla sempre di questo architetto no che era un genio è come se il regista ci dicesse qualcuno ha creato la società così ok e ci sta dicendo che la società così come la casa che si crea su vari strati va lasciata così perché creata da questo dio che è l'architetto appunto no che ha creato questa casa e non è possibile passare da uno da un livello all'altro tant'è che qui abbiamo tre livelli che difficilmente se non tramite quella serata in quella famiglia finge di essere la famiglia ricca perché lasciata sono in casa non riescono non c'è la scalata sociale ed è vero perché in corea del sud è così la scalata sociale è terribilmente difficile perché le università costano molto e quindi di conseguenza se tu vuoi fare un lavoro diverso da quello dei tuoi genitori che magari lavorano la terra o sono delle degli operai per riuscire a diventare un avvocato un ingegnere un architetto dovresti pagarti l'università è partendo da una situazione familiare non non ottima è impossibile la appunto la la scalata sociale e quindi è un è un affresco reale e del della società coreana però tutto tutto molto molto metaforico e a me è piaciuto moltissimo è difficile trovare difetti a questo film secondo me perché le inquadrature sono tutte precise perfette la recitazione è perfetta io l'ho visto sia in lingua originale che in col doppiaggio e il finale a me è piaciuto moltissimo perché comunque quella che dicevi tu no della puzza delle dell'impossibilità no di avvicinarsi da una casa all'altra perché se tu se non notiamo questa la famiglia ricca è sorda a determinate determinate richieste d'aiuto addirittura sono anni che vive in quella casa e è convinta che le lampadine siano difettose e invece c'è questa richiesta d'aiuto da parte dello strato più basso della casa che viene viene completamente ignorato anche questo secondo me è molto metaforico evidentemente il regista ci sta dicendo che le classi più ambienti in corea sono completamente sorde alla povertà che che la circonda e la puzza è un altro ma è un'altra membrana che si pone tra la la società ricca e le classi meno ambienti quindi loro a un certo punto durante il finale senza svelare troppo questa cosa della puzza li blocca in qualche modo anche se sta succedendo qualcosa di terribile li blocca e questo fa scatenare il il putiferio perché è impossibile no è una membrana che quindi non si non si non si può abbattere e niente queste sono le le prime riflessioni che mi veniva da fare sul film quindi lascio la parola a vaina allora grazie innanzitutto avete detto quasi tutto io dunque ripartirò brevemente dalla trama e poi io questo film visto solo una volta due sere fa quindi mi mancano molti dei dettagli che avete insomma notato e specificato ma mi sono comunque segnata alcune cose con gli asterischi adesso vado un attimo a riprenderlo allora innanzitutto la famiglia kim questa famiglia povera che vediamo fin dall'inizio vive in un seminterrato non seminterrato dove solitamente a parte il fatto che vediamo anche delle persone insomma che fanno i loro bisogni alla loro finestra insomma è una come dire un luogo che tipicamente viene abitato da animali come topi e scarafaggi che sono forse gli infestanti per eccellenza quindi qui fin da subito abbiamo un forte richiamo al allo stesso titolo dopodiché arriva questo questo amico del figlio che regala alla famiglia questa questa roccia che appunto avrà un fortissimo valore simbolico questa roccia vorrebbe portare ricchezza e fortuna alla famiglia ricchezza e fortuna allora questo è un altro punto secondo me fondamentale del film mi sono subito chiesta ma questo scontro famiglia povera che poi vedremo appunto con la questione del bunker non è una famiglia cioè diventerà ancora molto più interessante la 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 faccenda però questo scontro famiglia povera famiglia abbiente ma la famiglia povera è composta da menti geniali la famiglia ricca è composta da elementi uno non direi che che sia uno sproveduto il insomma il capo famiglia della famiglia park non lo vedo come sproveduto però è un padre assente capiamo anche che probabilmente non gliene frega niente della moglie insomma si capisce da una conversazione con con l'autista con il signor kim insomma abbiamo dei dubbi che ami davvero la moglie si capisce poi nel finale che sicuramente tiene alla famiglia al figlio si preoccupa molto insomma quando alla crisi epilettica però abbiamo appunto questo capo famiglia della famiglia abbiente della famiglia park che sostanzialmente appunto come dicevi anche tu barbara a parte che non si capisce neanche bene che lavoro faccia va bene e poi però è assente arriva sempre a casa boh disinteressato che non si accorgerebbe neanche di un meteorite sulla testa probabilmente quindi mentre invece la moglie come appunto dicevi tu barbara è estremamente malleabile impensabile manipolabile e quindi la prima cosa che mi sono chiesta dopo pochi minuti è stata ma la famiglia povera è composta da menti davvero cioè geniali anche ovviamente dal punto di vista negativo perché sicuramente circonvenzione di incapace sono dei truffatori però mi sono chiesta ma come come fanno essere ancora poveri a vivere col sussidio di disoccupazione essere costretti per sopravvivere per arrotondare a piegare i cartoni delle pizze cioè veramente è una cosa che 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 viene che viene da chiedersi poi sempre per tornare un attimo alla trama abbiamo appunto questa innanzitutto il ragazzo chi vuò che viene assunto dalla dalla famiglia park come insegnante di inglese per la ragazza per la figlia adolescente e lui una volta che dentro riesce a far assumere la sorella ovviamente negando però il legame familiare questo un altro punto molto importante spacciandola per una fermata docente di arte terapia che dovrà andare a dare lezioni al al figlio più piccolo della famiglia park questo da son ultra irrequieto e qui ci sono due punti fondamentali uno riguarda proprio questo figlio minore irrequieto sia dal fatto che secondo me sia l'elemento più positivo della famiglia park innanzitutto perché irrequieto possiamo definirlo anche come viziato no per un certo punto scappava nella tenda insomma fai capricci fa un po quello che vuole però si dal fatto che uno è quello che diciamo permette un'apertura verso invece la 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 ex quella che diventerà presto la ex governante sostituita anche lei dalla dalla capo famiglia della famiglia kim tramite whatsapp quindi si tiene in in contatto con la ex governante poi è quello che riconosce immediatamente il legame familiare che lega appunto la invece la famiglia kim e li riconosce proprio dall'odore e lui primo a riconoscere l'odore poi anche il signor park dirà è vero si sente quell'odore con la moglie avrà questo confronto però il primo a riconoscerli anche in quanto accomunati da qualcosa anche se ovviamente non non può ancora immaginare quale sia la verità però è lui che riconosce che hanno un odore simile inoltre è lui che vede il quello che vabbè viene chiamato il fantasma no questo uomo che vive nel nel bunker ed è lui che ha le crisi epilettiche le crisi epilettiche e qui mi voglio riagganciare un attimo invece quello che dice solitamente marco che forse mi potrà dare una insomma un maggiore approfondimento perché io ne parlo proprio così da fordammis come sapete però le crisi epilettiche in alcune culture vengono considerate come una specie di tramite verso verso qualcos'altro cioè una sorta di apertura in cui la mente diciamo fa blackout ma è anche un oltre a essere un momento di crisi e allo stesso tempo un momento in cui la mente si apre permette di vedere altro quindi per me il bambino della famiglia park è davvero l'elemento più più interessante e poi un altro invece un'altra cosa che mi ero segnata proprio con l'asterisco e la famiglia negata cioè la famiglia kim per riuscire a entrare nel diciamo farsi assumere dalla ricca famiglia park è costretta a negare il proprio legame familiare quindi questa per me è una cosa molto molto grave cioè è vero loro sono appunto i parassiti però come abbiamo detto e anch'io sono sono d'accordo con questo con questa visione con questo punto di vista ci viene da chiedere chi siano i veri parassiti cioè sono loro che comunque certo sono dei truffatori sono dei malintenzionati arrivano a fare cioè delle cose tremende a far licenziare delle persone poi alla fine insomma vorrebbero anche uccidere come dire le persone che rischiano di di mettere a repentaglio la loro nuova posizione ecco nuova posizione che però appunto come diceva anche Marco fin dall'inizio è una posizione in realtà molto cioè apparentemente più sana di quella precedente perché comunque loro è vero adesso possono lavorare per questa famiglia di ricchi ma comunque alla fine restano sempre dei loro schiavi e oltretutto sono anche costretti a negare il loro legame familiare quindi per me è un doppio dramma poi scusate mi ero anche segnata delle altre cose vabbè appunto gli espedienti davvero incredibili da parte della famiglia Kim per farsi assumere e poi mi ero segnata ecco il fallimento scusate volevo tornare un attimo sul fallimento perché anche questa è una cosa che mi aveva colpito all'inizio da una delle conversazioni in famiglia all'interno della famiglia Kim viene fuori che il padre il capofamiglia prima lavorava in una pasticceria poi la pasticceria aveva subito questo fallimento quando scopriamo l'esistenza del bunker e del marito della governante che si nasconde dagli usurai e lo sentiamo raccontare la sua storia scopriamo che anche lui a sua volta aveva una pasticceria che era andata in fallimento e che adesso appunto si doveva nascondere dagli usurai quindi questo è un fortissimo collegamento sia tra le due famiglie di perdenti diciamo così di meno abbienti le famiglie diciamo di bisognosi che abbiamo all'interno del film sia un collegamento tra i due capofamiglia per quanto riguarda il fallimento e a questo proposito mi rilascio invece al discorso che faceva Marco sulla mancanza del piano ecco anche questo mi ha molto colpito questo dialogo cioè se tu non hai un piano non puoi fallire ecco questa è secondo me cioè è un messaggio che meriterebbe ulteriori riflessioni ecco è una cosa che dice appunto il signor Kim e che mi ha fatto riflettere tantissimo cioè se tu non pianifichi niente non puoi non puoi andare incontro a a delusioni dunque volevo vedere se avevo segnato qualche altra cosa ma direi che niente basta posso posso terminare qui se avete qualcos'altro da da dire o se se vi ho fatto delle domande che vi ispirano qualcosa sì 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 se mai rispondo un attimo io a qualcosa poi se vuoi aggiungere pure tu Barbara a parte che volevo aggiungere una cosa che non avevo detto nell'esposizione è il discorso della pioggia ecco la pioggia ci fa ribadisce secondo me ancora una volta metaforicamente la differenza di stratificazione che c'è perché questa pioggia che pioggia di un temporale quando sono nella casa dei signori diciamo così e che addirittura il giorno dopo la la signora ne parla anche come un qualcosa di benefico che ha un po' ridificato tutto invece per lo strato basso della città è la devastazione e il diluvio universale è una pioggia veramente che scaccia queste persone addirittura costringendoli poi a dormire tutti quanti assieme cioè devastando completamente i loro semi interrati queste queste insomma come succede con le fogne tant'è vero che c'è una scena molto bella che dura pochissimo quando loro stanno scappando da questa casa dei signori però ad un certo punto ci fa vedere proprio l'acqua che va giù nelle fogne e poi subito dopo abbiamo la scena montata di loro che arrivano nel loro nel loro quartiere insomma la loro zona e vedono tutto quanto allagato quindi questo ribadisce ancora una volta questa c'è anche una caduta diversa degli elementi naturali per quanto riguarda le varie differenze che ci sono i vari posizionamenti poi secondo me ecco una parte da una parte quello che diceva vaina è giustissimo ma questo fallimento secondo me non fa nient'altro che marcare una sorta di destino che c'è da parte di questa di queste stratificazioni cioè l'impossibilità per queste persone di riuscire poi effettivamente se non nel sogno se non nell'illusione ricordiamo che il figlio solamente nel sogno riesce a abitare acquistare la casa ma in realtà non ci riuscirà probabilmente mai e quindi ecco secondo me da un da un certo punto di vista c'è questo discorso tra il fallimento necessario come segno di un destino ineluttabile che cala su queste persone e l'impossibilità di muoversi da queste posizioni se non nell'illusione o nell'inganno ecco perché secondo me c'è anche la necessità dell'inganno cioè queste persone possono entrare in quella casa solamente fingendo solamente spersonalizzandosi quindi non essendo più una famiglia ma diventando altro diventando delle maschere di carattere delle ecco mettendo su quel teatro dell'inganno che solamente questo gli consente di abitare di abitare quello spazio e poi si sono pienamente d'accordo con il discorso della crisi tendenzialmente la crisi è qualcosa che porta ad un livello successivo probabilmente non si può neanche sapere se necessariamente migliore o meno però la crisi significa proprio questo mettersi in un attimo in una situazione dove l'instabilità riconfigurerà di nuovo poi la situazione successiva infatti noi oggi diciamo che siamo una società della crisi in realtà ormai non potremmo più neanche dire c'è c'è sta crisi perché dura da 30 anni cioè la crisi è il passaggio quando c'è la crisi si è in una fase di transizione tendenzialmente poi dopo dovrebbe esserci altro e cedo la parola a barbara che sicuramente vorrà dire qualcosa allora sì anch'io volevo rispondere a vaina rispetto a questa cosa del piano quindi come diceva giustamente marco se non hai un piano non puoi fallire è come dire traslando se non hai un sogno non puoi essere deluso ok e questa cosa dell'impossibilità no di di accedere a una realtà diversa secondo me è molto molto rimarcata anche nell'utilizzo che fa il regista dei cellulari e questa cosa che volevo dire prima mi è lo schermo proprio quindi mentre la famiglia ricca questa vetrata enorme su questo giardino quindi alla vista libera noi notiamo che invece la famiglia kim che è la famiglia più povera osserva spesso il mondo attraverso questo schermo del cellulare no quindi si apre il film con loro che cercano il segnale che ascoltano le notizie attraverso il lo schermo che utilizzano addirittura lo schermo a un certo punto senza svelare troppo nel film utilizzano proprio come un'arma no come se fosse quasi una pistola e questa cosa dello schermo secondo me non è solo figlia dei nostri tempi proprio una scelta registica che vuole dire mentre il le classi più ambienti hanno la vista aperta sul mondo possono osservare il reale intorno a loro la famiglie le famiglie povere che vivono appunto in questi seminterrati bui di seul possono accontentarsi di vedere il mondo da fuori tant'è che il film si apre anche con loro che guardano nella finestra più alta e osservano quello che gli cade addosso e quindi sì sì secondo me è proprio ha utilizzato vari tipi di 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 messaggi per veicolare questa questa impossibilità di 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 rompere questa questa parete di vetro mettiamola così loro si avvicinano ma non la rompono mai ecco quest'altra tranne ecco il forse e su questo sono molto d'accordo con vaina l'unico che forse è veramente in contatto con un altro tipo di realtà è il figlio più piccolo che quindi è il primo che sente l'odore si accorge che c'è qualcuno che vive all'interno delle sue mura per questo viene preso per 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 un bambino che ha queste crisi psicotiche però è forse l'unico quindi ancora il più giovane quindi quello meno compromesso che invece si accorge che nel resto della sua casa della della sua esistenza adorata c'è qualcos'altro ecco volevo aggiungere solamente va bene vaina se vuoi ancora dire qualcosa io penso che su questo film si potrebbe parlare veramente per ore e staremo qui ancora a tirare fuori qualche qualche micro narrazione quindi se se non vuoi dire altro posto grazie io penso che abbiamo abbiamo detto abbastanza come sempre e vi ringrazio sempre e ci rivediamo grazie grazie a voi